Doveva essere lo scontro più duro quello contro il Valdichienti per il Tolentino e così è stato. Contro la squadra di Mr. Marinelli la partita finisce infatti 0-0 dopo uno scontro maschio e duro che di amichevole ha avuto ben poco per tutti i 90 minuti. Le tante troppe assenze nel Tolentino costringono Mr. Mosconi a rimaneggiare un po' tutta la formazione titolare. Rimangono fuori Padovani, Severini, Zammarchi, Aloisi e Bucosse. Viene affidato l'attacco così ai giovani Cicconetti e Moscati. Un altro giovane, Mengani, viene data la fascia di destra mentre in difesa si prova quella che probabilmente sarà la formazione titolare, quella formata da Bonacchi, Strano e Nonni. L'unica assenza pesante invece nel Valdichienti è quella di Trellini che non costringe Mr. Marinelli a correre ai ripari schierando così una formazione iper-offensiva con un attacco formato da Papa, Palmieri e il bomber Riccardo Cucù. Il risultato di inizio partita però sarà anche quello finale, uno 0-0 che non rispecchia il reale andamento del match, un match ruvido, duro e maschio che entrambe le squadre avrebbero voluto vincere. Nel primo tempo è il Valdichienti che prova a fare la voce grossa riuscendo a creare le occasioni da gol migliori grazie alla rapidità e alla velocità delle proprie tre punte che provano a penetrare dentro alla difesa del Tolentino. Compito non facile perché la retroguardia Cremesi si conferma ancora in un ottimo stato di forma, un solo gol subito nei quattro test della prestagione e soltanto sul calcio di rigore. Nel secondo tempo il Valdichienti cala di intensità, il Tolentino ne approfitta e guadagna metri riuscendo a creare le migliori occasioni della propria partita senza però segnare il gol del vantaggio. Tantissimi anche i cambi a ambo le parti con Mr. Mosconi e Mr. Marinelli che hanno avuto l'opportunità di provare tanti under in vista della prossima stagione. Inisce dunque 0-0 un buon test per entrambe le compagini che hanno avuto riferimenti importanti sul proprio livello. Allora per il Tolentino ci sarà un nuovo test, quello contro lo Simana di sabato prossimo in attesa della formazione dei gironi che saranno il primo passo verso il prossimo campionato di Serie D.